Musica Ben ragazzi, eccoci qui, siamo con un nuovissimo video E sono sempre qui In questa camera fantastica Piena di attrezzi da nerd No vabbè dai Purtroppo come spero vi siate accorti Tipo molto molto tempo che non faccio un video Non sono morto Quindi in questo video già è una cosa positiva Che non sono morto Io purtroppo quando inizio a fare i video Dopo un po' non so che mi succede Mi arrivano mille impegni E lascio perdere perché Vabbè ho anche una vita insomma Io non riesco a fare solo una cosa in continuo E purtroppo mi dispiace Non poter aggiornarvi nei miei fatti Non so se inizierò a pubblicare più vlog O non lo so qualcosa Mi inventerò ragazzi Fatto sta che è un mese che non facevo video Mi ci ero messo tipo una settimana fa O anche la settimana scorsa A fare un video subito dopo il romics Ma non lo so che mi era successo Un po' che volevo portare un gioco nuovo Un po' non so che cavolo è Insomma è andato a finire che Ho sclerato Giocavo a FIFA Ho sclerato Ho spento tutto E basta Ho detto basta Mi sono incazzato Perché non riuscivo a giocare Il lag Entravo Laggava E mi incazzavo Non l'ho detto Per fare un video Se devo sclerare un pomeriggio intero Lasciamo stare Che ho già altri impegni E infatti si ragazzi Per chi sapesse Sono il fotografo Mi avete visto a Romics Molto probabilmente E appunto La fotografia mi sta portando via Molto molto tempo libero Perché sto lavorando Per un locale Vi faccio Il cuore sia Insomma I after movie I video insomma Della serata E insieme alle foto E ci vuole un bel po' di tempo A disposizione Volevo fare un piccolo aggiornamento Prima di entrare nel gameplay Che Volevo raccontarvi un attimino La mia esperienza a Romics Lo so È passato tantissimo tempo Non so se voi ci siete stati o meno Ma per chi non c'è stato Magari mi sta seguendo Perché alla fine Ho 2500 iscritti Alziamo le mani Signore Qui Beh con la giornata a Romics Perché ci sono stato solo un giorno Sono stato veramente Ma veramente bene È stato Cioè tutti quanti sono stati Veramente simpatici Posso dire adesso Di conoscerli Veramente tutti quanti Ragazzi Non so adesso Cosa vi porterò Sto cercando di riprendere GTA 5 Perché vedo che ancora Molto apprezzato Con molti commenti Perché mi sta vedendo Non vi posso portare video In quel gioco Perché l'avevo sulla 360 Che ho venduto Insieme a tutti i giochi Della 360 L'unico che mi è rimasto È FIFA 11 E COD 4 Qui ho la play 3 Forse me lo farò prestare O non so Vedremo di fare qualcosa Su appunto La playstation Il problema è che Devo rifarmi tutto da capo Oggi ho deciso di portarvi Qualcosa di differente Qualcosa che Non vi portavo da tanto Ma tanto tempo Sicuramente Verrà fuori un video di merda Pieno di lag Di sclerate Vari Ok Facciamo partire subito Il video Come potete capire Siamo su Call of Duty Ghost Non ha praticamente un cazzo Cioè Non ho sblocato Niente Sono all'inizio Ancora Il primo cod Che non mi ha preso Veramente bene Forse perché sto Gioando solo Forse non lo so Però praticamente Sono all'inizio Non ho nemmeno preso Il season pass E quindi Sono una merda Totale ragazzi Che faremo Che modalità faremo Qualcosa che non sia Troppo pipposa Tipo Tutti contro tutti Dai Buttiamo là Tutti contro tutti Poi semmai Taglierò le parti Farò qualche Merda Non lo so Commenterò comunque Sempre Desclusivamente E quindi E niente Non posso nemmeno Darvi consigli Perché non mi ricordo Più le mappe Non praticamente Sono una merda Queste sono le mie Vecchie classi Praticamente Fanno cacare Sì Quindi se dovete seguire Chiudete il video E cercate qualcun altro Perché questo è uno Spreco di tempo No dai Scherzo Spero di riuscire a portare Con casa di bello Ma sono una completa pippa Non gioco da una vita E quindi Non lo so Nemmeno mi cerca I avversari Perché mi dice Tu sei troppo una merda Non entrare a giocare Cioè Nemmeno ci sprecare tempo Dai che ce la facciamo Tutti contro tutti Su Flooded Siamo già a 6 minuti Di video E sto scaderando Perché Verrà un video Molto ma molto lungo Come sempre Dovrò tagliarlo Oddio Vaffanculo Mi ha ucciso Questo stronzo Bene Si inizia Come sempre Alla grande I miei I miei inizi in game Sono sempre migliori Eccolo lo stronzo Vaffanculo Ma porca fortuna Volevo portarvi Anche qualche gameplay Di Battlefield Ma è una vita Che non ci gioco E allora ho detto Qui facciamo code Perché è molto più easy Come gioco Eccolo col frocio Muori stronzo Muori pure tu Vediamo se compare Un altro ricchione Perché qui La situazione È sempre quella Spawnano Ovunque Questi bastardi Guarda come mi spawnano E lano Non so nemmeno A cosa serva Questo satcom Oddio Vaffanculo Sploderà Vaffanculo Spronzo Spronzi dai Oh amen È morto Perché sennò qui Si incazzano tutti E mi segnalano Dopo mi flaggate E mi cancellate Il canale Quindi devo anche Tenere Vuoi come fai A non bestemmiare Con queste cose Cioè Fatemelo capire Cazzo Di quella M Quanto si campera In questo gioco Di merda Come cazzo fate A giocare Vaffanculo Eh io che ce posso Fa Help me guys Where are These fucking Bitches Here There is a fucking Porca troia Bitch Muori Stronzo Vaffanculo Te l'ho messo Là dietro Brutto Bastardo Sicuro Che ne compare Un altro Help me Lo so che ci sei Ma vaffanculo Deficial No No Porca troia No Nervoso Dai su Facciamo Incazzare Dove cazzo è Oh my god Amo di Sembrare Ciò che non siamo Quella merda Mettitela Alla dietro Perché lì Dove deve andare Il suo La posizione Posizione Ideale È lì Ok Vediamo Dove è L'altro Che qui Non mi piace Assolutamente Oddio Mi è passato Davanti Mamma mia Che scagaso Me la sono Fatadoso Muori Bastardo Via da qui Assolutamente Aiuto Fuck your sister Oddio Oddio È entrato Là Via Via Andriamo Muori Stronzo Fucking Asshole Oh Shut up Bitches Non l'ho manco Toccato Non l'ho manco toccato Aiuto Non sento che ce n'è uno Di nuovo qua Prendi Dove siete Non mi puoi uccidere Il cane Stronzo Muori Nigga Il predator Infilatelo Nell'ano Oddio L'ho rischiata Mattivo No No Sono finito Secondo No 28 uccisioni 17 morti Potevo arrivare Primo Potevo Potevo arrivare Primo Ebbene ragazzi Come sempre Come qualsiasi live Devi andare a finire Sempre ma sempre Male Stavo editando Quel cazzo di video Che ho registrato Oggi Insomma Prima di quell'altro Gameplay Che vedete Il secondo Volevo portarvi Perché volevo portarvi Due match Non mi ha registrato L'audio Tanto è sempre così Ragazzi Quindi niente Mi tocca rifarlo A distanza di tipo 6 ore Quindi rifacciamo Il secondo Gameplay E questa volta Boh Ragazzi Non saprei dove Ci possiamo buttare Buttiamoci in un dominio Un match Un pochino più Differente Che taglieremo sempre Come avevo detto Andiamo a conquistare Subito C Porca puttana Ho male alle mani Perché sono andato In palestra Il gelottico Sfondate Tutti i calli Ovunque Calli a destra e a sinistra E quindi non riuscire nemmeno A pigiare Il pulsante R3 Per R2 Per uccidere i nemici Porca troia Via da qui Vi Vi Oh dai Lama Porco Come fate Veste mia Qui crepo Se me passa Quello sopra Sì no Muerta Prima Altra Uccision Sono in due Porco Diaz Dai ma non mi possono Scappare in due Così Cioè Come le merde Non uccidetemi male Porca vacca Sta puttanaccia Oh oh Vaffanculo Stronzo Vaffanculo Anche tu Ma come ti pretende Boh Speriamo che il microfono Stia registrando Correttamente Perché qui è una merda Dio quel povero Corri 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 Velocissimo Velocissimissimo Porca puttana Stiamo facendo un 9-5 Un discreto risultato Ma Non è degno Del mio vecchio GG Perché qui facevamo Le super kill Oh e muori Porca puttana Sta man Oh 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 Oddio 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 due Stai giù Stai down Odna Vaffanculo Ma lancia patate Ma Per metterlo in culo Col fucile Dai ma come cazzo Favata a giocare così Vaffanculo Stronzo Guarda Il frocio Che te scoppiassero pad Vaffanculo Oddio Super clutch Col pistolone No vaffanculo Dai dai Allora Guarda lo stronzo Ma poi lo scleri Porco diaz Mi giuro Sto per tirare Una di quelle bestemmie Vaffanculo Stronzo Oh 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 che te piassero paroli Cioè mi ha tolto la bestemmia dalla bocca Non mi fate utilizzare Aggettivi non adeguati Alla situazione per questi finocchi Vaffanculo Vaffanculo 2 Vaffanculo Sta finendo il dominio Corri 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 Uccidiamo tutti Vaffanculo Aiuto Spostati Via da qua Dai su Su Andiamola a prendere Sti stronzi Cornuti Che non siete altro Spero che tu muoia Porco Ma vaffanculo 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 Sclero time Sta per diventare uno sclero time Questa sera Questa cazzutissima sera Del cazzo Muori Bastardo Ok Ho sparato come un deficiente Aiuto Ho ferito Aiuto Dai là Porco Dio Oh Ho visto la morte Cristo Cristo Pietà Cristo Pietà Cristo Il lag De Cristo Pietà Ammazzalo Ma vai Affanculo Come potete Uscire in tre Da un buco Manco Sascha Cray Usci tre Così Per quanto ce l'ave Spanato Col culo Ti paro E vabbè Oddio Ho preso un colpo Ebbene ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che abbia anche Registrato tutto Questa volta Se no devo sclerare Contro il santissimo Signore Qui so Vi invito A commentare A mettere un like A fare quel cazzo Che vi pare Basta che vi vedo Vi vedo Attivi tutti E 2500 Perché vi vedo Tutti e 2500 Così porterò Video con molta Molta più voglia Molta molta Più voglia Da parte mia Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Sia un pochino più interessante Il primo Tutti contro tutti Un pochino più Più Avete capito E quindi niente Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi Un bacio a tutti quanti E Bella Bombers Ciao Ciao Grazie a tutti